buongiorno ragazzi allora oggi partita importantissimo contro il torino una partita tra bocchetto bisogna stare molto attenti perché la trappola è dietro l'angolo Iuric è un grandissimo allenatore per quanto mi riguarda è una partita difficile il torino è sempre stato un avversario ostico per noi ci ha sempre riservato delle sorprese spesso almeno spesso ci ha riservato delle sorprese noi siamo in un periodo un po particolare veniamo da un periodo no ed è giusto oggi dare una scossa una scossa sia per la squadra che per l'ambiente una vittoria i tre punti sono obbligatori perché sennò si mette veramente veramente male un po per tutto sia per la classifica sia per l'umore morale dei ragazzi morale dei tifosi e visto il periodo che non è dei migliori urge urge assolutamente bisogno di tre punti e cominciare una marcia un po diversa fatta fino adesso perché comunque ragazzi abbiamo fatto sei partite ufficiali abbiamo fatto tre vittorie tre sconfitte 11 gol fatti 10 subite veramente tanta tanti gol presi perciò c'è da cambiare qualcosa assolutamente spero che i ragazzi mi fido di questi ragazzi abbiano fatto una settimana o meno questi giorni che hanno potuto riprendersi dalla partita di champions che ahimè ci hanno preso a schiaffoni l'avversario nettamente più forte per carità però l'inter doveva fare e poteva fare di meglio secondo me oggi col trottorino giochiamo in casa davanti al nostro pubblico perciò importantissimo fare tre punti importantissimo fare una bella prestazione non so se giocherà onana in zaghi conferenza diceva che oggi ci sarebbe stato in porta andanoci io dico la mia secondo me sbagliatissimo è ora di cambiare onana deve essere il nostro portiere titolare per i prossimi anni si deve iniziare capisco le gerarchie ma in zaghi di tirare fuori i coglioni mettere in panca andano invece che ha fatto la sua storia 38 anni riflessi non sono più quelli di una volta e non è che lo dico io lo dimostra il campo onana secondo me ha fatto una buonissima partita contro il bayern non è colpa sua i due gol presi secondo me lui non ha nessuna colpa anzi ha fatto vedere che ha dei riflessi molto 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 importanti ce ne eravamo scordati con andanoci di quei riflessi lì perciò ragazzi per tutto il bene che ho voluto ad andanoci e voglio perché comunque la persona seria però è giusto che sia un po umile si faccia da parte capisco anche lui stesso che è il momento di fare spazio a un portiere come onana che promette bene può essere il portiere no può essere deve essere il portiere del futuro dell'inter detto questo ragazzi c'è anche il problema societario adesso è venuto fuori che Goldman Sachs sta cercando l'inter dato mandato per cercare un acquirente la società dicono che abbia smentito adesso vediamo vediamo a noi ragazzi è arrivato un importante un importante notizia da un personaggio molto importante anche che ci ha dato delle dritte detto questo non stiamo dicendo che è fatta non c'è niente di di tutto ciò però domani faremo una live dove spiegheremo un po' tutto quello che sappiamo visto che ci accusate di di non parlare perciò diremo quello che potremmo dire è quello che ci risulta noi detto questo c'è solo da attendere non c'è assolutamente nessun acquisto di altre società perché ragazzi se ci fosse un acquisto se l'inter fosse stata già acquistata ci sarebbe già sarebbe già stata annunciata e niente comunque c'è solo da attendere noi abbiamo sempre detto quello che ci risulta ragazzi quando è qua ci tengo apro una parentesi poi la chiudo velocemente quando a maggio vi dicevo e purtroppo qui mi dispiace tantissimo quando a maggio vi dicevo dopo mesi che comunque avendo anche alessandro sul canale ci parlava di una di una trattativa in chiusura ad agosto io dopo a maggio ho avuto delle conferme completamente diverse parlando con persone veramente importanti che mi hanno assicurato che non ci sarebbe stato nessun cambio societario ci sono rimasto male anch'io però ho optato per la verità ragazzi ho confrontato mi sono confrontato ho guardato ho cercato di guardare la persona che mi diceva queste cose qua la persona che mi ha detto queste cose qua è una persona molto 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 affidabile e ho voluto credegli mi aveva detto giocati il canale perché ti assicuro che non ci sarà nessun cambio societario e ha avuto ragione ha avuto ragione perciò dopo può piacere posso starvi sulle palle perché poi sono state inventate tante cazzate mi hanno mi avete attaccato perché mi avete dato delle volte a gabbana mi avete siete venuti qua a insultarmi dicendomi il 30 luglio avremo a festeggiare sotto il tuo canale sparisce tutto però sta di fatto ragazzi è la verità io l'ho sempre detta e ve l'ho detta si è avverato quello che ho detto non c'è stato nessun cambio societario mi dicevano inizialmente mi diceva perché è giusto essere corrette inizialmente mi dicevano anche non ci sarebbe stato e forse entro fine anno ma neanche dopo una settimana ho detto guarda angelo non ci sarà molto probabilmente se ci sarà un cambio sarà nel 2023 però dopo può cambiare quando si parla di trattative tutto possono succedere tante cose la verità in tasca non ce l'ha nessuno e io cerco di dare una corretta informazione non sono né legato a pif né legato a qualsiasi altro fondo sono legato all'inter e sono e cerco di dare la più corretta possibile informazione e ad oggi ahimè anche se voi mi attaccate e dite che non è così io ho fatto tutto ciò che si è avverato quando gli altri sostenevano tutti e dico tutti tutti non solo uno tutti che in estate ci sarebbe stato il cambio società quando io ho detto di no invece di cercare un confronto sono stato attaccato insultato e sono stata fatta live sul live dicendo di disiscrivetevi da quel canale che non so un cazzo però alla fine ragazzi bisognerebbe guardare un po' in faccia la realtà e ammettere che ho avuto ragione poi posso stare sul cazzo vi posso stare sulle palle perché purtroppo tanti utenti vogliono sentirsi dire pif a prescindere perché se non si parla di pif purtroppo andate in escandescenza non volete la verità voi volete solo sentirvi dire pif 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 è questo male questo male perché significa che siete legati solo a pif e non cercate la realtà qual è poi magari sarà pif come dite voi ma ad oggi vi assicuro che pif non è a meno a me risulta così che pif non c'è perciò non mi sembra il caso di attaccare una persona solo perché magari ha delle notizie differenti io non ho mai attaccato nessuno io quando altre persone parlavano di pif dopo che ho dato questa notizia io ho detto io ad oggi ho notizie diverse non ho mai attaccato nessuno oppure quando io parlavo di pif non attaccavo nessuno quando parlavano alcuni parlavano di americani ho sempre detto altri hanno informazione differente dalle mie perché comunque ci vuole rispetto del prossimo roba che non vedo su youtube ragazzi vedo una competizione malsana persone che pensano sul proprio canale allora ti attaccano perché hanno bisogno di far perdere credibilità agli altri per per essere più visibile avere più visibilità loro così la verità ragazzi comunque credete quello che vi pare io sarò sempre qui a lottare per la verità a oggi vi dico che non c'è nessun pif non risulta a meno a me poi io non è che perché tanti mi dite ah ma tu godi se non arriva pif no assolutamente io sarei contento sono il primo a festeggiare se domani mattina arriva pif sono il primo sono il primo a scendere in piazza ragazzi a dire cazzo era ora perché l'inter bisogno di una società solida sarò il primo se accadrà detto questo ragazzi vi saluto forza inter oggi ripeto partita importantissima abbiamo bisogno di questi tre punti d'oro ciao ragazzi grazie